Quando pensiamo ai geni italiani che hanno fatto la storia delle invenzioni, tra i primi nomi che ci vengono in mente ci sono quelli di Marconi e di Meucci, giustamente. Ma esplorare la collezione del Museo Storico della Comunicazione, l'EUR, ci aiuta a conoscere altri inventori che, magari meno noti al grande pubblico, hanno segnato la loro epoca. Uno di questi è Giovanni Caselli. Ma andiamo con ordine. Verso la metà dell'Ottocento, gli inglesi Bain e Bakewell avevano fatto diversi esperimenti per realizzare un apparato telegrafico elettrico che fosse capace di trasmettere scritti. In particolare, nel 1846, Bain era riuscito a trasmettere solamente segni grafici convenzionali, usando carta imbevuta di ferro cianuro di potassio. Poco più tardi, Bakewell, nel 1848 e poi ancora lo svizzero Chop, nel 1850, erano arrivati a trasmettere, sì, degli scritti, ma con risultati poco soddisfacenti, dato che il sincronismo tra gli apparati trasmittenti e gli apparati riceventi che avevano costruito era molto approssimato. A superare questi inconvenienti e a trasmettere scritti e disegni ci riuscì proprio il nostro Caselli con il suo pantelegrafo o telegrafo universale. La figura di Caselli è abbastanza curiosa. Nasce a Siena nel 1815, studia la storia e la letteratura e a 21 anni prende l'abito ecclesiastico. Poi nel 1841 lo troviamo a Parma come precettore dei figli del conte San Vitale. Ma questa attività dura pochi anni perché poco tempo dopo, nel 1849, fu espulso dal piccolo Ducato emiliano per le sue azioni patriottiche e le sue simpatie per il Piemonte. In questo cambiamento di vita si appassiona all'elettricità, al magnetismo e riprende gli esperimenti di Bain e di Bakewell. Interviene sui loro apparati e con delle migliorie, con nuovi apparati trasmittenti e riceventi a due pendoli, con oscillazioni prodotte da un elettrocalamita comandata a sua volta da un orologio regolatore, Caselli ottiene il sincronismo perfetto dei due apparecchi. Effettua le prove di collaudo e nel 1855 a Parigi, appoggiato dall'imperatore Napoleone III, dispone dell'intera rete telegrafica francese e brevetta la sua invenzione nel 1856, il pieno successo. E quattro anni dopo, per la trasmissione dei disegni e degli scritti con il Pantelegrafo, fu istituito un servizio pubblico sulla linea Parigi-Lione. Il servizio poi cessò nel 1870 in seguito alla disfatta di Sedan, quando erano però già in progetto altre linee. Abbiamo prima fatto un cenno alle simpatie patriottiche di Caselli. Teniamo conto che Napoleone III diverse volte gli propone di acquisire la cittadinanza francese. Quella cittadinanza consentirebbe a Caselli di accedere alle funzioni di ispettore generale e coordinatore dei servizi telegrafici in Francia, ma di fronte al suo rifiuto gli concede la legion d'onore, un grande riconoscimento. In ogni caso, le possibilità offerte dal suo Pantelegrafo destano l'interesse della Financial Society di Londra, che vorrebbe istituire con il Pantelegrafo un servizio pubblico, ma prendono accordi con l'inventore, conducono una serie di esperimenti sulla linea Londra-Liverpool, ma si dovrà rinunciare al progetto poiché l'Inghilterra viene travolta dalla crisi che la sconvolge a partire dal 1864. Andiamo in Russia e in Russia il Pantelegrafo viene utilizzato non per il servizio pubblico, ma per lo scambio di messaggi fra le due residenze imperiali di San Pietroburgo e di Mosca. Caselli fu un personaggio, come abbiamo imparato a conoscerlo, anche se rapidamente abbastanza poliedrico. A lui si devono altre invenzioni. La torpedine marina comandata elettricamente, la quale nel caso di non raggiunto bersaglio torna automaticamente al punto di lancio. La pressa idraulica e ancora il cinemografo, uno strumento con cui si misura la velocità delle locomotive e infine il timone automatico per le navi.